Mare, ah, ciao mare, senti il sogno come è nato, troppo male, sogno in condizioni sia mentali che fisiche completamente vergognosi, fisico solo perché esteticamente il sogno senti che Luca, sogno tutti a me sotto, la testa mentre cilindrica, tutta rizzera nuda, tutto irregolare, ma la cosa che mi preoccupa è che mentalmente, mare, mentalmente, sogno, ah, sogno completamente perso, perché sogno in condatto in questo periodo con gente di malattie mentali pazzesche, sogno soprattutto in condatto con getto Maurizio Fagli, uno capisce qualche 140 kg, però per la domenica abbia la poppetta e uno, mare, capisce di dire ciao, ci stava qualche 3 e 4 d'ora e poi, mare, si mangia magari i tavolini e mi è gira per dirlo, ma non è che mangia, mare, si gara tutto, ah, 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 e se, sogno in condatto con getto, una specie di malattie mentale pazzesche, non solo, e poi con un altro, in certo stato del nullo, uno cacciava in barrucchino che senza gel e ci pisa 5 kg, con gel e ci pisa qualche 40 kg, mare, uno cacciava i giacchi di 2.900 zichi che ti causava meno anno e si spagnia tutto il tovaro, furia come un pazzo, c'ava moto, tutto, gli autori, lo russo che si sente tutto, seminario, e furia con questi malattie mentali, mare, sogno, poi, a Cilezzina è l'allenatore nuovo cacciaio, mare, un cristiano di qualche semestre, o dire, ah, va bene, che ha una faccia assomiglia a un cavato, e che ha, vitto, è convinto, cacciava una grande famiglia, tutte chi le tue sorelle, sorelle, ma che è, convinto, chi ha, questo è bastato, e se, poi, c'ho sogno, mare, come è andato troppo male, sento, ah, 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 si sta venendo una crisi, che ha, bello, non fare i mici, non fare i mici, non fare i mici, non fare i mici.